Un paese passilo che ci porta oggi in Pianello, un paese tocco, che è venuto da spopolazione. Abbiamo avuto iniziative che sono fatte per luttare contro il fenomeno e abbiamo scontrato di nuovo un giovane pastor installato qui insattare le traizioni di Montagnia. Ma prima andiamo in Corri i paesi, la soggio attedia prova a mantenere le azucce al Pianello di cui si pone ad unisce ai paesi anni e che è tutto là. Saluto Pascale. Saluto. Va bene? Allora, su Foyer Rural c'è veramente un luogo importante per la comunità paesiana in Pianello? Il luogo d'appuntamento di a gente, non c'è nemico, non c'è chi è qui. Le stade c'è di nuovo gite che è già aperto, non c'è abbiazza di soli, non c'è chi si scontra in un corpo e noi tutta l'annata facciamo gli evenimenti appena anima il paese. Tutta l'annata ma di più l'ingverno? Quali Stade c'è forse che è il più importante paese a campare il paese tutto l'anno? Tutto l'anno, è importante. Tutti i mesi, al minimo, c'è un evenimento. C'è un evenimento che può portare un'altra cultura, un evenimento di conferenze, se non si rade, perché c'è anche gli scontri, facciamo il bologno, il vigadillo, facciamo un po' divenimenti, tutto l'ingverno, e anche l'estate, ma il più importante per noi è veramente l'ingverno. E quindi c'è centrale, capitale, da avere un'allia azucana in paese, o se no senza che sarebbe più difficile? In paese c'è poco a gente, una trentina di persone, quindi un'allia importante e può permettere a paesoni dall'area di regolare il paese e di scontrare gli amici che l'hanno bevuto di bui anni e anni. Quindi è veramente importante per la comunità pianellacci di scontrare qui, che le si hanno pianellacci di Abbiadio, di Avila o di un paese. E fra i pianellacci di un paese si sa l'importanza di avere i giorni a campare alla nata di una scelta fatta da Giuseppe Riolaci che non ritroviamo in un paese di l'Ivianelluccio. Io andavo alla scuola in Piaglia, in Bersaliria e Gisonaccia, ma mi è sempre piaciuto il paese. Una rama usava la domenica con l'intervaganza di un paese. Dopo ho usato qui, usavo la domenica, mi è sempre piaciuto il paese. Dopo il gioco, dopo che sono andato, andavo a scuola, giravo un paese, eravamo due o tre amici, e non ho mai troppo immaginato di andare a questa città o un altro luogo che qui. Manca Pinsala a fase 8 in altra e che è pure cui difficoltà di campare in un paese così lontano da tutto. È vero che è difficile. Una vita paesana è una vicenda che si scrive in un villo di attraizioni agricole pianellaccia. Sui tendo i bassi familiali, Giuseppe Sestalato ha fatto il gabradio. A mia famiglia ho sempre fatto degli animali, ho fatto bene, 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 ho fatto bene. Questa è la tradizione di animali. E capri quando hai? Capri è una gente di 350-200. Qui hai detto, on le rimuove sulle montagne. Justo a punto, che faccio un pastor quando i capri sono passi montagne? Allora, c'è sempre qualcosa a fare, c'è sempre qualcosa a fare, faccio un prezzo di entretenimento e amandri, apprendi la vita di un anno, poi scopo come buoni, cerco di arrangare il meglio che quando raggiungi, non che usiamo tutto pronto per me e per regli. Cosa, c'è un mistero di bassioni, c'è un mistero di una faccenda di figlio e di no, come si basa tutto l'anno di piacere, d'accordo, ma di faccio e di gampare di quei, di agricoltura e di gabri? E infine, questa tradizione di montaniera si sa piano di un paese di montaniera a principio. è sempre stata così, Suzu si è persa appena, è importante di continuare a faccio a montagne e capri e a impiagliare. Per me, sì, è assai importante, è importante perché, come hai detto, il pianeta resta un paese di montaniera, tutti i bastori regolano, la montagna viene da così, adagliare e tutto. E io ho detto, buono, io continuo a diventare la montagna, per me capire di noi questa tradizione di montaniera. Una tradizione di montaniera che in Idempi ha permesso a pianeta il tuo cao mille abitanti, eppure se il paese ha visto a sua popolazione tra falla con la perdita di suzi basturali, un fiatto ferma sempre da che di gampini si luoghi ai confini di a piedi a zero.